Che cosa abbiamo qui? Lo Skylumber è venuto a proteggere la bambina uncello per il grossa chef cattivo! In fondo, io voglio solo fare una frittata super piccante e far saltare tutti in aria! Cosa c'è di male? Oh, oh! Sembra che questo Skylumber voglia impedirci di preparare la nostra frittata piccante nel fatto! Lea! Lo so, lo so! È assunto, vero? E allora togliamolo di mezzo! Nell'arena! Mi servi tu, Threat Pack! Tutto sì, non va bene! Il combattimento nell'arena! Nel nido della gallina finince! Oh, cappella! Oh! E se aggiungessi qualcosa di nuovo a questo stufato di cattivi? Stufato di cattivi? Ma che ricetta è? Oh! Lanciamissimi! 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 Di gesto! Come una cipolla nel gelato! Skylumber! Dav... Oh! Per te lo sono! Ehi! Che ti è venuto in me, peccato! Di solito! Non mi ha toccato! Oh! Sembra proprio che questo Skylumber sia un'assa nuova! Il mio lavoro è indispensabile utilizzare coltelli di qualità! Questi Shred Nuts faranno proprio al caso mio! Dovrò, dovrò affrontare uno Shred Nuts! Questo vi ebbe il Dread Pack! Un Chill Bill! Sembra che per questa ricetta servano altri cattivi, Skylumber! Nessun problema! È il momento di aggiungere il mio ingrediente segreto! Oh! Paccà! Chi vuole batterci con me? Cuckoo Clocker! Trappo la vita! Oh! Si comincia a stare un po' stretti! Non mi chiedo a salmi d'ambia! Oh capito! Oh capito! Oh capito! Qui mi servì tu, Dread Pack! Cuckoo Clocker sconfitto! Metti una trappola vita nel portale per intravolare questo cantino! Allora intelligentone! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao ciao! Ciao ciao ciao!